Siamo presentando uno spettacolo al Teatro Michelangelo, è una commedia nera, un thriller psicologico scritto da Edoardo Erba che ha la regia della grande firma di Serena Sinigaglia. Siamo in scena io e Alessandra Faiella, la storia è molto intrigante, uno spettacolo molto particolare che offre sia momenti divertenti che momenti drammatici, il tutto in un ritmo molto serrato e pieno di colpi di scena e di sorprese, quindi non posso dire molto della trama se non altro posso dirvi che siamo due donne in scena molto ma molto diverse, due personaggi complementari ma molto distanti, una grande scrittrice di best seller e una donna delle pulizie molto sempliciotta e che il rapporto fra le due porterà insomma delle cose molto inaspettate. Lo spettacolo che ripeto si intitola Rosaline e vi invito a vedere nei teatri di tutta Italia a questo proposito potete andare sulla mia pagina Facebook Marina Massironi, pagina ufficiale e c'è tutta la tournée, insomma tra i vari post, se no c'è la pagina ufficiale di Rosaline lo spettacolo, quindi potete trovare tutte le date lì, saremo in giro tutto dicembre e tutto gennaio. È uno spettacolo a cui teniamo moltissimo e che è già stato a Milano, a Roma, insomma è già il terzo anno di tournée e siamo felicissime perché abbiamo sempre avuto dei ottimi riscontri e quindi grazie al pubblico che ci ha seguito finora e speriamo di vedervi. Ripeto, è uno spettacolo avvincente, è uno spettacolo particolare che indaga la natura di sé qual è la vera natura dell'individuo, che cosa si nasconde dentro ognuno di noi che cosa reprimiamo, che cosa abbiamo, che cosa nascondiamo, che cosa conosciamo tutte domande molto importanti.